Io sono abituato a tutto, ho visto tutto, quindi a me non dà nessun tipo di fastidio personale, non lo considero uno scherzo ed è la dimostrazione di una parte di persone che sono molto lontane da questa amministrazione e che cercano in tutti i modi di interrompere questa innovativa esperienza amministrativa, noi li registriamo ogni giorno, alcuni che possono sembrare scherzosi come questi, altri che lo sono meno, noi sappiamo perfettamente chi ci lavora contro e sono soprattutto camorristi, politicanti e affaristi, da questi pigliamo le distanze ogni giorno e quindi c'è anche un tasso d'odio che qualcuno alimenta nella nostra città, quindi a me non fa né caldo né freddo, dispiace perché non è in questo modo che si scherza, ma questo lo dovreste chiedere a chi fa queste cose, per noi non cambia nulla, anzi per me è un'energia ulteriore anche perché in questo periodo mi sento in perfetta forma, sono tonico, poi mio nonno diceva che è lunga vita quando ti fanno queste cose, quindi io sono napoletano, ci ho fatto un sorriso e mi sento ancora più carico.